Sabato 16 sono stati in tanti a partecipare alla manifestazione voluta da Lega Cop per tenere alta l'attenzione a 120 giorni dall'alluvione, dal giorno in cui furono tagliati gli argini sui campi coltivati delle cooperative. Proprio per questo il sito scelto per la manifestazione è stato simbolico, proprio di fronte al punto in cui i soci della CAB Terra diedero il permesso di allagare i loro campi per salvare la città e i suoi monumenti. In quei giorni gesti simili videro protagoniste anche le altre sei cooperative braccianti della provincia, Agrisfera, Bagnacavallo e Faenza, Cervia, Campiano, Massari e Fusignano. Diciamo che abbiamo cercato di rimettere in coltivazione tutti i terreni alluvionati per renderli coltivabili, per avere una produzione 2024 si spera almeno dell'80% sui terreni meno allagati. Avete usufruito già di risorse? Certo, pari a zero, non abbiamo ancora ricevuto niente, ma neanche le indicazioni su come richiedere questi esercimenti. Quindi quello che cerchiamo oggi è quello, vogliamo delle risposte certe, dei tempi ecco, perlomeno certi, perché noi stiamo già affrontando la campagna 2024, ma non abbiamo ancora avuto niente, quindi dobbiamo capire come affrontarla, perché la natura non sta ferma, la natura prosegue e noi dobbiamo cercare di fare il possibile di mettere in coltivazione quei terreni, perché poi non solo noi cooperativi, ma qui c'è tutto un territorio, sono gli agricoltori, le aziende, insomma, che hanno bisogno di ripartire, se non ripartono il rischio è che poi chiudono. Noi abbiamo la necessità oggi di ripartire, di avere la certezza per ripartire. Oggi mancano certezze sui tempi, mancano certezze sulle risorse, mancano certezze anche su quelli che saranno gli interventi, che con un inverno alle porte rischiano di farci preoccupare ogni volta che il cielo diventa scuro.